E allora eccoci qui, buon sabato, buon weekend e che weekend a chi ha il Milan nel cuore. Un saluto a tutti cari amici rossoneri, ben ritrovati qui su Milanello, il nostro e vostro canale YouTube dedicato al Milan. Ci siamo, è 50.000 iscritti, ci siamo quasi, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto in questa zona, attivate anche la campanella e lasciate un bel like, tanti like, tanti like, voglio almeno 3.000 like perché può essere una giornata importante o comunque un weekend importante. E quindi insomma, dai, dai, forza, 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 ricordiamo a ore 15 l'Atalanta, poi alle 18 la Juve, stasera Lazio, noi giochiamo invece domani sera contro il Cagliari. Vibrazioni, sensazioni, emozioni, insomma è un terremoto di stadi d'animo che si alternano in questo sabato e più passerà le ore, più aumenterà la tensione. Positivo, ovviamente, quindi può essere una giornata già importante. Rispondo alle vostre domande che avete fatto sulla community, nel consueto appuntamento con Milanello risponde. Il primo, Andrea, mi chiede perché se l'Atalanta perde non basta più una vittoria? Lo spiego per l'ennesima volta, capisco che sia un discorso un po' articolato. Se l'Atalanta perde oggi e vince la prossima e noi vinciamo domani e perdiamo la prossima perché nel caso l'Atalanta ha vinto appunto, siamo a pari punti con l'Atalanta. Ma se la Juve perde anche oggi e vince la prossima, ci raggiunge e quindi saremmo tutti e tre a pari punti. Quindi questo è appunto il possibile scenario. Tutte e tre a pari punti non sarebbe più una questione esclusiva a Mina Juve, siamo in vantaggio con gli scontri diretti. Si andrebbe a vedere la classifica a Vulsa e saremmo in questa classifica a terzi e quindi saremmo fuori. Mi sembra però uno scenario insomma molto improbabile e quindi intanto alle ore 15 l'Atalanta deve fare almeno un punticino così questo scenario lo scongiuriamo. Poi Samu mi chiede come siamo messi con Donnarumma. Siamo messi come due settimane fa, come un mese fa, come due mesi fa. Il Milan ha presentato l'offerta da 8 milioni di euro. Il giocatore e il procuratore non si sono degnati neanche di rispondere. Di farsi vivi tutto tace. Poi da l'entourage trappela un atteggiamento un po' più distensivo ma ha sensazione più di facciata proprio per salvare questo finale di stagione. Da Torino ci dicono che comunque l'accordo con la Juve c'è. Che però sarebbe la Juve in questo momento un po' pititubante visto che non sa di che morte morire se in Champions o in Europa League. E' chiaro che dopo quel Juve-Milan 0-3 è un po' meno difficile diciamo così ma comunque assolutamente non scontata la permanenza rispetto a prima. E poi Marco, terresti il leao? Io personalmente no, dice. Adesso dopo tra due partite faremo il bilancio. Aveva iniziato bene, si è perso. Qualche giorno fa ha fatto un bel assist. In generale se si riesce ad avere un'offerta che ne copra il valore economico a bilancio io ci farei più di un pensierino. Perché purtroppo secondo me a livello di testa non riesce a sfondare. Marco, perché guardiamo sempre a giocatori come De Paul, squadre come Juve o Inter e mai a squadre come l'Atalanta con molto ingaggio basso e giocatori semi sconosciuti? Beh, in realtà ci sono le eccezioni. De Paul, se hai la possibilità di prenderlo, devi prenderlo senza se e senza ma. L'Atalanta ha preso Mirancuk però vedi non ha sfondato. Il Milan ha preso Salemakers per due cocomere e due zucchine e Salemakers nel Milan comunque suo lo fa. Tomori arriva dal Chelsea però era sconosciuto quasi ai più. Kalulu è stato un parametro zero e oggi qualcosina vale. Theo Hernandez oggi vale molto di più rispetto al valore per cui è stato preso. Quindi rispetto a Juve e Inter noi siamo più su quella strada dell'Atalanta. Se Milan confermassi tutti i prestiti, si inventa qualcosa per il vice Salemakers, dovrebbe comprare solo Tomori e il resto su Vlaovic anche 50 milioni io lo prenderei. Interessante la tua lettura, al Milan Vlaovic piace tantissimo. È il problema che non so se riesce a confermare tutti i giocatori e ti devi inventare qualcosa per il vice Salemakers. Comunque il tuo messaggio è sicuramente interessante e intrigante. Il giocatore Giorgiano è ancora nei radar del Milan. Si parla dell'esterno del Rubik Canzan dal nome impronunciabile. È ancora nei radar però c'è una concorrenza importante. Quindi non è affatto facile andare a prendere questo giocatore che piace molto al Milan. Un mesetto fa vi avevo raccontato di Massara che aveva contattato il Rubik Canzan per Cavascheglia manifestando il proprio interesse. Però sviluppi veri e propri non ce ne sono. Tonali torna a Brescia, non credo Daniele. Emanuele, se il Torino dovesse retrocedere il Milan punterà su Velotti a poco. L'obiettivo resta sempre Vlaovic. Da quello che abbiamo capito il Milan ha come sogno Vlaovic ma attenzione anche da Hebram del Chelsea. Velotti è forse quello più facilmente arrivabile perché ha il contratto di scadenza nel 2022. Quindi quest'estate o rinnova ma non credo o parte. Però il Milan vorrebbe un giocatore più con caratteristiche simili a Ibrahimović. Dolarumma dice Michele non ci prendesse in giro. Adesso gli viene comodo il Milan quando le altre squadre erano tutte un bluff. Tanto si sa che fra due anni si riparte con questa rottura. Forse meno anche se resta anche tra un anno. Gabriele Ilicic potrebbe arrivare a prescindere da quello che farà Cianoglu. Sì potrebbe arrivare come Jolly tra tre quarti. Però se resta Brian Diaz non credo ed esterno di destra. Il Milan ha avuto contatti così rispondo anche a Gianluca. Diversi contatti che si sono un po' congelati per capire il futuro di Cianoglu. E il destino del Milan tra Champions ed Europa League. Però il giocatore è allettato. Bisognerà parlare poi con l'Atalanta. Cosa che il Milan non ha ancora fatto concretamente. Che ne pensi delle dichiarazioni arroganti di Gasperini? Ci servono tre punti a decidere uno e con chi farli. No comment. Guarda mi erano sfuggite queste dichiarazioni. Faccio mia colpa se le ha dette veramente. Guarda non dico altro. Intanto vinciamo con il Cagliere. Poi dobbiamo fare il nostro dovere magari anche all'ultima. C'è possibilità che il Milan rinnovi meite? Sì c'è possibilità. Per ogni decisione verrà presa a campionato concluso. Anche se il Milan come centrocampista vorrebbe inserire un giovane. Un profilo tipo Tomori però del centrocampo. Verrà riscattato Diaz. Il Milan vorrebbe confermarne il prestito. Questa volta con diritto di riscatto. Il Real però deve prima capire chi sarà il nuovo allenatore. E vorrebbe comunque provare a portarselo in ritiro. Sei tu che canti la sigla di Milanello? Il timbro della voce mi sembra quello. No, quella rap è il nostro caro amico Barfetti. Quella invece più cantata, più classica è di Vito Elia. Vlaovic e De Paul riescono a venire entrambi? No, entrambi no. Entrambi no perché parliamo di 90 milioni di euro. 80-90 milioni di euro mi sembra sinceramente troppo anche in caso di Champions League. Perché non sono le uniche due operazioni che il Milan deve fare. Verrà preso un vice ibra e un esterno di destra forti? Sì. Mi collego a Lorenzo che dice Ho letto che Vasquez vuole 7 milioni. A questo punto l'unico nome per la fascia destra sostenibile rimane Ilicic. Ilicic rimane sicuramente. Su Berardi non ci sono notizie concrete anche perché è un altro che costa. Vediamo se si riesce a trovare magari un giovane performante per quella fascia. Vasquez 7 milioni a me sinceramente sembrano un po' troppi anche come richiesta. È chiaro che lui un parametro zero abituato a Real Madrid può chiedere tanto. So che ha chiesto tanto ma non mi risultano 7 milioni. Il Milan vorrebbe restare sui 4. Però contatti diretti ce ne sono. Ho appena letto che la Juve sarebbe vicina a Celanoglu. Ti risulta? Ne abbiamo parlato ieri. Celanoglu ve l'ho dato un mesetto fa. Per certo il contatto tra Stipic e il suo procuratore e la Juventus. Pensavo potesse essere una mossa dell'enturace per provare a mettere fretta al Milan. Il Milan comunque non ha boccato. Può essere vera questa situazione. Però se noi andiamo in Champions e loro no. Voglio vedere Celanoglu che dice Ok grazie Milan fai la Champions e io vado là. Però è una pista da seguire. Ma se andrà lì ce ne faremo una ragione ragazzi. Mi raccomando. Esterno d'attacco a destra. Pensi prenderemo qualcuno? Il nome più caldo? Sicuramente prenderemo qualcuno. Per adesso ti faccio due nomi. Vasquez e Ilicic. Con la conferma di Sademakers. E Castieco che può partire. Qualcuno ha detto Atletico Madrid. Oltretutto no. Il suo procuratore sta lavorando con il mercato spagnolo. Ma di offerte concrete non ce ne sono. Qualcuno ha parlato anche di Asta per Castieco. Con tutto il bene. Non risulta proprio. Quali sono le combinazioni per arrivare in Champions? Allora il Milan oggi potrebbe già essere. Stasera potremmo andare eletto in Champions. Se l'Atalanta non perde. La Juve perde. E la Lazio non vince. Nel caso saremo in Champions già stasera. Altrimenti. Se l'Atalanta non perde. E noi vinciamo domani. Ci siamo indipendentemente dalle altre. Puoi chiedere a Pioli quando arriva questo sorpasso. Scrive Gatto. Spirituoso. C'è qualcuno intruso che si mette a commentare. Forse dovrebbe pensare agli stipendi che il suo club non paga. L'area di smantellamento che ci può essere. Se si dovesse verificare l'eventuale addio di Donnarumma. Ci sono possibilità che il Milan possa prendere Cragno? No. Cragno come vi ho detto. Al Milan non convince anche per una questione di statura. Dei gustibus. Il Milan se va via Donnarumma fa arrivare Mignon dal Lille. 12 milioni più 3 di bonus. David nostro abbonato. Che saluto e ringrazio. David grande. Qui sotto vi potete abbonare se vi va. De Paul al posto dice no. Quella è una possibilità concreta. Sì. Non facile. Però al Milan piace tantissimo. Bisogna capire poi se effettivamente lui andrà da Raiola. La speranza è che non andrà da Raiola. Perché il Milan con il suo vecchio procuratore attuale ha un rapporto stretto. Ha avuto diversi contatti quasi storici. Non soltanto per De Paul. Grazie a Henry che scrive complimenti. Pjanic può venire in caso di quella cosa che non diciamo per ora. Scrive Lorenzigno. No. Pjanic ha parametri economici. Prende tantissimi soldi. Milan a centrocampo eventualmente farà un giovane di prospettiva. Per quello che disse Buffon su Montari per me mai e poi mai al Milan. L'ho detto anche io ieri. Mai e poi mai. Dato che la situazione che sta passando al Torino. Velotti può essere più pavabile ad essere il prossimo centravanti del Milan. Ve l'ho detto. È un'idea ma non è il primo obiettivo. Il Milan vorrebbe un giocatore per caratteristiche anche fisiche simili a Zata di Brahimovic. Il sogno è Dusan Vlaovic. È difficile. È difficile perché costa tanto. La conferma che sia di Raiola non c'è ancora. Caro Nico 2000. Il riferimento a De Paul. Che piace tanto. Ripeto piace tanto. Se il Milan va in Champions League Maldini potrebbe telefonare a Sergio Ramos. No. No. Non credo proprio. È in attacco più Vlaovic o Depay. Nell'ultimo giorno Depay si è ravvicinato al Barcellona. Che però prende forse anche Aguero. Bisogna capire se riesce a fare l'accoppiata. In questo momento Depay ha un parametro a zero. Vlaovic ci sono tanti soldi. Ti dico comunque Depay è un pallino di Maldini. Che già aveva provato a prenderlo un anno fa. Quando c'era l'operazione con il Leone Paccheta. Però lui si era promesso al Barca. Adesso sembrerebbe che c'è un ritorno di fiamma col Barca. Ti dico però più Vlaovic anche se è difficile. E poi perché non parli mai delle ragazze che si giocano a Champions? Maurizio confesso. Faccio mia colpa che il Milan femminile mi prende un po' poco. Chiaramente guardo i risultati ma non guardo le partite. Non sono così caldo. Non farmene una colpa o nel caso perdonami. C'è la possibilità che la Juve non riesca a riscattare Chiesa in caso di mancata a Champions? No, loro lo tengono. Lo tengono e spero che non vinca nulla più con la loro maglia. La seconda squadra di Milano potrebbe perdere la licenza UEFA per stipendi e debiti vari? No, perché nella vicenda Superlega con il fatto che loro hanno fatto un passo indietro sostanzialmente l'UEFA chiude un occhio sulle altre vicende. Mi chiedono se è possibile che l'attaccante possa costare, che ci sia un'eccezione alla filosofia. Sì, se andiamo in Europa League comunque sì. L'anno prossimo possiamo puntare allo scudetto? Erzi, bisogna arrivare in Champions. Per puntare allo scudetto, vedi anche la seconda squadra di Milano, per arrivare a vincere è dovuta stare qualche anno in pianta stabile in Champions. Quindi arrivare quinti, sesti e pensare di vincere allo scudetto, magari sì. Però bisogna prima arrivare nei primi quattro. Ti portano 40-50 milioni, investi e quindi sperare sì. Secondo me se andiamo in Champions l'anno prossimo l'obiettivo è rimanere in Champions e provare a arrivare in alto. Anche perché la Juve se sta fuori avrà difficoltà enormi a ripartire e gli altri non faranno mercato, faranno magari partire giocatori e vivono una situazione particolare. Attenzione però alla Roma che senza coppe potrebbe dare fastidio, anche se secondo me Mourinho il meglio lo ha dato. Giuseppe Ferrara, grande, nostro abbonato. Se andiamo, io sono sicuro che ci andiamo, dice ci fai sentire ogni giorno, almeno per una settimana all'inizio di ogni video, la musicata della Champions. Non posso perché sennò per questioni di diritti mi bloccano il canale. Però te la canto, prometto che te la canto. Ancora, non credi che il Milan abbia bisogno di due attaccanti nuovi? Oltre ovviamente a prendere uno Vlaovic, dopo caso mai il secondo, uno tra Belotti e Scamacca, o lo stesso Ebram, dal Chelsea. Per il secondo occhio anche a Broby dell'Ajax, che è forte ma va all'Ipsia, ti segnalo. Per quanto riguarda gli altri no, nel senso Simanzukic, mi aspetto che vada via, confermi Ibra, inserisci Vlaovic. Il suo ragionamento lo capisco. Effettivamente, se fai anche quella competizione, ti servirebbe magari un altro attaccante. Può essere confermato Brian Diaz, l'ho detto prima. Lui vorrebbe restare. Vorrebbe restare, bisogna però parlare con il Real Madrid. Se c'è la non rinnova, comunque può arrivare un sostituto più facilmente. De Catelereo, insomma mi fai tanti nomi. Iconi per la fascia destra, anche qui. Semina spende per l'attaccante, per il trequartista spende un po' meno per essere uno di destra. Bisogna alla fine far combaciare tutto. I nomi che mi hai fatto tu, non ci sono notizie concrete. Per quanto riguarda altrequartista, resterei su Vlasic, Ciascamosca o De Paul. Mkhitaryan al Milan. Non ho notizie di prima mano, anche se è un nome che è circolato, perché è un parametro zero, quindi è da seguire. La Roma non lo riscatta. Però è anche spesso fermo. A me piace, però è spesso fermo. Renato Sánchez no, lo escludo, perché il Milan, avendo Benassere, che sì, Etonali non va a spendere 30 milioni per il centrocampista, che comunque non parte titolare. Cerchere di fare mercato sugli svincolati, Ilic sarebbe un buon acquisto, ma non fa la fase difensiva, serve qualcuno che concili entrambe le fasi. Chi vorresti? Ma a me Ilicic come jolly ha maggior ragione se facciamo quella coppa lì, non mi dispiace affatto. Marisa, l'avvocato del diavolo, cosa vuole esattamente da Ivra? Forse ti confondi con la voce del diavolo. Leonardo Martinelli, che non ha preso bene il fatto che lui vada a fare l'Europe con la Svezia, sostanzialmente. Grazie per i contenuti del canale, grazie a te Albert. Donna Roma rinnoverà, l'ho detto prima. Io resto sempre sul più no che sì, ma se il Milan va in Champions aumentano le possibilità del sì. Esterno dell'Itz Rafinha, il Milan ha avanzato qualche offerta, no? Caro Roberto, grazie per i complimenti. Su Pobega, il Milan farà la valutazione a mercato concluso. Potrebbe essere lui ad esempio il quarto o addirittura il quinto, qualora partisse ad esempio Krunic. Il Milan Pobega lo segue con attenzione e potrebbe però essere anche una pedina di scambio, come contropartita ad esempio per arrivare a De Paul. Domanda secca, secondo te ad oggi vari prestiti? Allora Diaz, Diaz dico che può restare. Mette può restare, Dallò secondo me non resta. Ha sensazione mettendo insieme tutti i pezzi che abbiamo a disposizione. In caso il Milan sta già pensando ad un altro centrocampista magari di esperienza? No, più un giovane, più un giovane al momento. Poi Riccardo ha risposto. Se Vlaovic è troppo caro, mi piace molto Ebram. Anche a me piace molto. Sono d'accordo con te, caro Stefano. Perché continuano gli erare Aughe? Non riesco a capire proprio, anche perché nel 7-0 poteva tranquillamente metterlo nel finale. Quindi non capisco, non capisco. Purtroppo mi dispiace molto. Kamawinga può interessare, piaceva più al Milan quando c'era il progetto quasi iniziato di Ragnic. Obameyang lo escludo. E poi, 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 poi. Tonali credo che verrà riscattato. Si ripetono un po' di domande. Manzokic male. Si troverà un accordo col procuratore e non verrà confermato. Scambieresti i Romagnoli per Berardi? Chiaramente Romagnoli non lo si può dare al Sassuolo. Però se mi dici, fai sacrificio Romagnoli, entra Berardi? Si, assolutamente si, senza pensarci due volte. Anche se ha sbagliato il rigore con la Juventus. E poi ancora, anche Roberto ho risposto. Il vice Ibra, l'ho detto, Icardi con Ibra non credo proprio. Farò il pagellone di fine anno? Si. Augè prima punta, no? A supporto della punta? Si. Ragazzi, tantissimi. Se poi c'è questa domanda, la recupero. Quando ho iniziato a seguire il canale, sono diventato un grande ammiratore per il tuo vostro lavoro. Quindi volevo chiederti una domanda personale questa volta. Come è nata la tua passione per il giornalismo sportivo? E come è iniziato il lavoro per il giornale della TV italiana? Grazie. Allora, ti rispondo alla fine di questo video. Resta lì. Resta lì. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Olzer lo promuoveresti in prima. Io sono per farli crescere bene, i giovani, senza fretta. Sicuramente sta facendo bene. Troppo bella la faccia delusa di Chiesa dopo il 3-0, è vero. Rispondo a quest'altro nostro amico. È sempre stato il mio sogno fare il giornalista sportivo. Ho sempre seguito Tele Lombardia e avevo mandato il curriculum al mio direttore quando avevo 22 anni, quello che poi è diventato il mio direttore Fabio Ravezzani. Lui, molto gentile, mi rispose che consigliandomi di fare esperienza a livello locale. Allora, ho iniziato a scrivere per un giornale locale, non di calcio. Ho fatto anche esperienza come speaker in una radio, Radio Seregno. Ho rimandato il curriculum, una giornata con queste esperienze. Ho avuto la possibilità di fare uno stage per tre mesi. Sono piaciuto e poi ho iniziato a lavorare domenica, sabato e domenica, prima poi di essere assunto. E sono a Tele Lombardia, stage 2006, assunzione 2007, ormai da 14 anni. E questa è diventata la mia storia, appunto. Poi ho trovato quest'ulteriore isola felice, una creatura mia, Milanello, che mi piace davvero tantissimo. Come vedete, ci metto tanta passione e impegno. Forza Milan oggi più che mai, ragazzi. Ci vediamo più tardi per altri aggiornamenti. Tanti, tanti like. Iscrivetevi in questa zona, attivate la campanella. Se vi va abbonatevi, venite a seguirmi anche su Instagram della Longoni QSVS. Ciao, ci vediamo dopo.